Si sa che la maggior parte dei femminicidi in Italia avvengono entro le mura domestiche e che quindi secondo me è importante aumentare il controllo ma anche invogliare le donne a denunciare le violenze in casa. Quindi anche il reato di stalker è stata una buona legge però bisogna farne altre a proposito. Di fatto che in questo caso è stato sembra un raptus alla fine perché lui invaguito di un'altra forse pensava di sistemare le cose così. Alla fine è normale e nella natura umana comportarsi in certi modi nel senso che non sono atteggiamenti che possono essere controllati non c'è un modo di prevenire queste cose si può solo cercare di aiutare la donna a essere più protetta e a proteggersi però controllare i raptus maschili è impossibile.